Gruppo di prealimentazione. Questo gruppo, è dotato di un rullo motorizzato azionabile attraverso un selettore manuale, e permette di trascinare le due estremità dei tondi. Si utilizza sia nella fase di alimentazione di nuovi rotoli, dallimbucco in macchina fino al gruppo di traino della FS, sia in quella di estrazione delle code. In senso opposto.